Allora, il ponte ormai, questa strada è chiusa da diverso tempo, che disagi provoca? Voi che abitate qui? Sì, io ho la mia insegnante privata dall'altro lato del ponte, quindi ogni volta devo passare per la tangenziale oppure per tornare dove sta il lago Patria, però a volte anche il lago è inondato, quindi è un po' un problema per tutti questo ponte, per me soprattutto che devo andare ogni giorno là. Quindi non so quando lo raggiungeranno, io spero presto, ma per il momento non si hanno dato notizie. Sta provocando tanti disagi, anche a questi piccoli commercianti che stanno chiudendo, perché non si può andare avanti così veramente. Gente che non può, si deve fare tutto il giro intorno al lago che è un po' pericoloso. Ponte ormai è chiuso da diversi mesi, che disagi ha provocato? Io ho avuto il disagio che comunque non essendoci più il passaggio abbiamo dovuto chiudere un'attività, perché comunque noi viviamo di passaggio e questi 200 metri comunque ci hanno fatto chiudere, perché comunque per arrivare dall'altro lato bisogna fare un giro di 12 chilometri, 12 ad andare e 12 a tornare. Quindi a piedi non si può camminare, anche perché comunque è una zona molto buia, non c'è illuminazione, quindi è impossibile raggiungerlo a piedi. Ad aprile fa quasi un anno e i disagi penso che ormai è di ordine pubblico, lo sanno tutti quanti. Basti pensare che per arrivare al villaggio Coppa per fare il giro ci vogliono 22 chilometri. Ci sono persone del posto che portano i figli alla scuola, al villaggio Coppa e fanno questo tutti i giorni, oltre a un disagio commerciale diciamo. Tu hai un'attività da un lato del ponte e la casa dall'altro lato del ponte. Praticamente è un disagio.